eccoci qua ad aspettare come al solito i friends bike brindisi buongiorno a tutti siamo i triple friends bike di salice salentino stiamo aspettando come al solito i nostri colleghi i friends bike di brindisi stiamo a san pietro vernotico andremo a squinzano a prenderci un pasticciotto e poi a casa labate a una zona turistica di mare a divertimento insomma niente un saluto da parte nostra spero di diventare ancora di più di quelli che noi siamo e niente buon divertimento vedete il nostro video e buon divertimento speriamo che vi piaccia tutti quanti non ci presenti il nostro nuovo tribal friends bike presentacelo nome e cognome brandolino endrio che oggi inizia a far parte del nostro gruppo allora sono in arrivo i nostri cugini friend bike brindisi gli alieni gli alieni sono fra noi buongiorno a voi mo ci manca davano 8 gli alieni sono fra noi mo ci manca torna buongiorno come l'andrea manca come l'andrea manca e sempre come spettiamo ma c'è fuori la tuttonna c'è fuori la tuttonna c'è fuori la tuttonna c'è fuori la tuttonna la caccia è chiusa la caccia è chiusa e mi sa che l'amico si è tornato se n'è tornato l'amico l'ho fatto tornare ah bravo no male senti il fucile finchia che canna manca qualcun altro c'è un mare ce l'ha l'amico tu si ce l'ho ce l'ho allora hai fatto bene come cazzo deve fare no sta a morire ciao ciao l'alieno gli alieni oh i me oh i me questo già sta a mangiare sta a bere pure petto sia portata ma insomma bimbo mica bike ahah e ricordate qui gioca a muffare un testo in rari, ricordate quello da giusto l'ara sera bella giornata siamo solo in 11 un vero peccato penso che la giornata meritava una partecipazione di massiccia da parte degli amici che si ritrovano ormai nel marchio dei friends bike ma ci auguriamo che con l'avanzare della primavera ci sia una maggiore presenza di ciclisti questo è il nostro augurio e fatti l'applauso di Tettino di Capri champagne e brindare a un incontro c'è un'altra parte lei si si inza male, si si inza male si si inza male è una volta che mi ha detto che siamo anziani guarda senti che gazzina forse è il caso di scendere ti puoi far male preoccupato mi stava venendo un po' per farmi scendere capito? e poi mi vuoi dare dire che Andrea lei che fa? vabbè mi nu dori, doi mai mi asta scapa ii mai si sa rinu ee? da, vrei sa rinu la dori 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 dori? da stai, stai, stai spira imi sa pari ca zirpus no, nu mai facesti Taxi sa amici Siamo qui alla pasticceria Vittoria di Squinzano il nostro abituale luogo di ritrovo quando ci troviamo qui nei paraggi in bicicletta Andrea Ecclesi, com'è il pasticciotto? E' buono? Ecco, spiegaci questa tenuta militare di oggi inconsueta No, siete voi che siete inconsueti, io sono ucciso normalmente Anzi, come mai non siete vestiti da militari pure voi? Ma fatto rilevante di... Allora, io faccio parte del servizio segreto di USA, no? Perché ieri c'è stata una minaccia dell'Isis Una minaccia dell'Isis a Trapanotto che per oggi è arrivato puntuale stranamente Noi siamo i bimbo minchia spike Che hanno fatto paura? Che hanno fatto paura? No, no, però si è chiamato puntuale Ma che è che ti chiamano le 5 e mezzo? Che non lo voleva rifiuti, ma è venuto puntuale Ti chiamano le 5 e mezzo? Ci voleva l'Isis Facciamo una panoramica sui partecipanti di oggi No, se l'ha presa Andrea Sì, se l'ha presa Andrea Sì Ne sono rimasti pochi a casa oggi Non puoi venire, stronzo Eccomi, eccomi Fai una carrellata Non puoi venire, non puoi venire 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 Una sfida all'ultimo video Scemo e più scemo Ancora Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti.